Musica Antonio Coniglio ufficialmente presidente della fondazione del carnevale di Ascireale ci vuole anticipare due o tre mosse per migliorare questo grande evento, il più grande evento della città Sì, la nomina è avvenuta da alcune ore, aspettiamo la conferenza stampa per parlare con la città di un progetto organico ma alcune anticipazioni, evidentemente ci sono tre cose che noi intendiamo porre come priorità nel nostro programma innanzitutto essere all'altezza dello straordinario capitale reputazionale che ci è consegnato all'iniziativa è stato certificato qualche giorno fa dalla Sicilia, noi siamo il secondo evento dell'isola e dobbiamo essere all'altezza di questo dato iniziale in secondo luogo il carnevale ha la necessità di rivedere il suo format e di inserirsi all'interno di un progetto organico di sviluppo della città non ci si sorprenda se la fondazione del carnevale di Ascireale non si occuperà soltanto di carnevale perché non possiamo più intendere il carnevale come una cattedrale nel deserto il carnevale deve essere, deve stare dentro un processo turistico-culturale e noi come fondazione ci candidiamo insieme al sindaco e agli uffici del turismo ad organizzare circuito chiuso, ticket? evidentemente una delle questioni è quella della sostenibilità economica noi sappiamo che il carnevale ha vissuto sino ad oggi soltanto di contributi dobbiamo trovare lo strumento, i mezzi per attrezzarci il circuito è una delle possibilità da esplorare dobbiamo farlo sul piano tecnico, c'è bisogno di uno studio scientifico non dobbiamo fare salti in avanti ma comunque è una possibilità per il carnevale estivo ci sono 20.000 euro, li dividete per 8 o per 5 carristi? li divideremo per 8, abbiamo avuto proprio questa mattina una riunione con i carristi sono responsabili, si rendono conto che la nuova amministrazione ha trovato una situazione di grande difficoltà nonostante questo noi salviamo il carnevale estivo lo facciamo e lo facciamo perché proprio il carnevale estivo vuole essere il primo passaggio della nuova programmazione che partirà da settembre la nuova programmazione che partirà da settembre